buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 8 maggio 2024 vediamo subito qual è il santo del giorno anzi non è un santo oggi ma è un particolare aspetto di una devozione che si nutre per la madonna oggi si festeggia infatti la madonna del rosario il mese di maggio è particolarmente dedicato alla madonna e si recita ogni giorno il rosario la madonna del rosario è particolarmente venerata a pompei dove non solo la gente affluisce per visitare gli scavi della città romana ma perché fa un atto di devozione ad un santuario un santuario eretto costruito dal beato bartolo longo nel diciannovesimo secolo e c'è un quadro un quadro che evidenzia appunto la madonna che distribuisce la corona del rosario a due santi di particolare devozione vediamo anche ora le previsioni del tempo e oggi sulle marche si estende una nuvolosità irregolare ma il clima nel complesso è asciutto quindi non dovrebbe piovere qualche piovasco però si accenna nei pressi degli sibillini maggiori schiarite in serata i venti sulle coste spireranno con una tensione media da nord ovest nell'entroterra invece da est nord est le temperature di 13 la minima 18 la massima il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 5 50 e tramonterà alle 20 e 17 ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal resto del carlino per quanto riguarda un caso particolare il caso che riguarda un giovane che ha dovuto superare un momento molto difficile della sua esistenza ma ha raggiunto il suo obiettivo vediamo è stato investito da un auto uno schianto terribile un volo di 8 metri e la morte schivata per miracolo ebbene ci sono voluti cinque anni per riprendere del tutto la coordinazione dei movimenti il ragazzo è un appassionato musicista e quindi anche per suonare la chitarra aveva bisogno di una coordinazione di movimenti che ha riacquistato giorno dopo giorno con fatica con impegno con gli allenamenti ma qual è la notizia che pone alla ribalta questo ragazzo ebbene è il fatto che suonerà come bassista ad una facendo parte ad una rock band nel campo dell'olimpico mercoledì 15 maggio prima della finale di coppa italia quindi un risultato importante importante non solo per l'avvenimento in sé ma per tutto quello che c'è dietro per tutto quello che questo ragazzo ha dovuto soffrire ha dovuto impegnarsi per raggiungere questo risultato si tratta di diego tancredi cermaria in arte delirio 28 anni di cui gli ultimi cinque passati all'inferno e ritorno dice appunto il giornale e poi il resto del carlino parla ancora dell'elisippo perché perché ieri il sindaco di fano massimo seri ha scritto una lettera al direttore generale dei musei che fa parte del ministero della cultura per dare seguito a quanto dichiarato nel convegno che si è svolto nel febbraio scorso mi sembra che fosse il 22 a roma per la presentazione di un libro dal titolo l'atleta venuto dal mare in quella occasione il direttore si chiama osanna nome un po particolare che non si dimentica aveva detto che a fano sarebbe necessario e l'avrebbe fatto anche il ministero la realizzazione di un museo dell'arte salvata in cui appunto riporre il lisippo quando questo tornerà in italia ma anche tutti i reperti che sono stati rinvenuti nell'adriatico adriatico che è veramente uno scrigno di tanti tesori che sono stati sì scoperti ma ce ne sono ancora tanti tanti altri da scoprire sentenza sull'isippo ecco cosa succede ora lo evidenzia l'avvocata fanese giuditta giardini che è consulente per la procura distrettuale di new york diamo un'occhiata che cosa prevede questa professionista ebbene ovviamente ancora non è che domani il lisippo torna a fano torna in italia dopo la sentenza della corte di strasburgo dei diritti europei ebbene che cosa succede vediamo un attimo l'italia ha vinto il primo grado di un procedimento instaurato dal ghetti museum però ora c'è un secondo grado un secondo grado esperibile davanti alla grande camera della corte edu che potrà durare oltre tre anni ebbene un secondo grado di giudizio a cui può accedere il ghetti museo ancora non è detto che lo farà però potrebbe farlo quindi c'è un ricorso ancora ed è lunga veramente questo percorso processuale che sembra non finire ci sono voluti due gradi di giudizio per giungere alla sentenza all'ordinanza da parte del tribunale di peso l'ordinanza di confisca e in piedi c'è ancora il procedimento di esecuzione dell'ordine di confisca degli stati uniti ebbene l'avvocato generale sta verificando l'avvocato generale americano sta verificando che il processo svoltosi in italia non abbia violato i due elementi del giusto processo su tutte queste disquisizioni di carattere processuale quando si avrà nulla a osta dell'avvocatura generale sarà la competente corte distrittuale federale californiana a ratificare l'ordine di confisca il che significa che ci vorranno in pratica ancora diversi anni prima che e se poi accadrà il lesipo ritorni in italia ebbene comunque è il caso di procedere intanto di prepararsi per questo evento per non lasciarsi preparati se e quando accadrà intanto ieri e parliamo ora della campagna elettorale la prima forza politica che fa parte della coalizione di centro-sinistra quella che ha eletto come candidato sindaco cristian fanesi ha presentato la sua lista si tratta di in comune quella lista che fa capo a samuele mascarin e la il nome di samuele mascarin appare proprio nel simbolo di questa lista e questa è una delle novità che appare in questa campagna elettorale in comune con mascarin e la prima lista del centro-sinistra a presentare i candidati non ci sarà però la consigliera uscente carla luzzi che dopo dieci anni lascia il consiglio comunale lo ha fatto per ragioni familiari e lo ha fatto anche per lasciare un po lo spazio ad altre persone che provino l'esperienza di consigliere una esperienza esaltante che comporta ovviamente un grande impegno però insomma carla luzzi si è fatta volontariamente da parte comunque ci sono altri nomi noti in lista a partire per esempio dal segretario stesso della della lista civica guccioni e poi insomma rita carnaroli insomma ci sono tanti altri nomi che sono noti ma ci sono anche nomi non noti insomma prevalgono le donne in questa lista e ci sono anche esponenti dell'immigrazione ci sono persone di origine araba di origine romena insomma che evidenziano il problema della integrazione così come quello della fragilità del rispetto dei diritti della persona che costituiscono un po gli obiettivi della lista civica in comune ovviamente i giornali espongono tutti i nominativi sono 24 che ormai si stringono attorno al candidato sindaco cristian falesi li vediamo qui in questa foto anche se un po scura comunque sono i possono leggere ovviamente i nomi sui giornali passiamo ad un'altra notizia e vediamo quello che si è verificato attorno ad una importante ditta della cantieristica è la carbon line che ha concluso un contratto sindacale che i sindacati rivendicano che i sindacati evidenziano invece come un buon contratto carbon line 100 brindano sicurezza sul lavoro e soldi dopo 14 mesi 14 mesi ci sono voluti di trattative è stato chiuso questo contratto integrativo con molti molti benefici lavoratori coinvolti anche nella gestione produttiva e questo evidenzia un impegno maggiore da parte dei dipendenti e soddisfatti i sindacati allora vediamo un po nella sostanza quali sono i pregi di questo contratto ebbene c'è un premio aziendale la cui base di partenza è di 2000 euro all'anno non è poco quindi c'è un'integrazione al congelo di maternità o paternità al 100% per i primi due mesi e per i mesi a seguire del 60% un accordo che prevede poi una settimana di formazione per la sicurezza al momento dell'assunzione appunto questo molto sentito dai sindacati anche perché fino a qualche anno fa alcune aziende che lavorano per il settore della nautica erano paragonate a campi per la raccolta di cotone insomma c'era una grande disordine un problema che poi magari andava a discapito sia della sicurezza che della produzione dell'attività della cantieristica ora la cantieristica invece è un settore molto importante dell'economia fanese che ha ripreso a volare in alto un'altra notizia invece riguarda Mondavio che vediamo qui a centro pagina parchi e fattorie didattiche, i centri estivi sono green ed è pronto il calendario del comune di Mondavio e della casa della gioventù per quanto riguarda le attività estive si tratta di un calendario di attività dei centri estivi per i bambini di età compresa tra i 3 e 13 anni le iscrizioni andranno effettuate entro il 5 giugno utilizzando il modulo scaricabile nel sito web del comune e intanto a Marotta la Croce Rossa premia i suoi migliori volontari almeno una gratificazione formale anche se non sostanziale per l'impegno che questi ragazzi dedicano ad una attività socialmente molto molto utile sabato nella sede di Viale Europa la consegna delle benemerenze a chi si diede più da fare durante il Covid che è stato un momento veramente molto molto importante, molto impegnativo per tutti i mezzi di soccorso A Urbino impera la campagna elettorale e vediamo come Alleanza Verdi, Sinistra Italiana e Socialisti Ecco i candidati a sostegno di Scaramucci, il capolista e il noto ambientalista Gianluca Carrabs Urbino ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo innanzitutto riportando i residenti qui insomma bisogna creare le condizioni per riportare a casa coloro che hanno dovuto andare a lavorare fuori regione fuori anche all'estero perché nel loro posto insomma non trovavano un'occasione di sopravvivenza diciamo meglio. E poi è importante quello che Urbino ha conquistato in merito alla promozione turistica perché si è vista assegnare tre stelle dalla guida Michelin alla città assegnate tre stelle l'assessore Roberto Cioppi, averle avute ci rende ancora più attrattivi ed è importante perché questa guida è molto seguita non solo in Italia ma anche in tutta Europa e avere tre stelle è un po' come andare al top della promozione e dire guardate a Urbino c'è veramente una meraviglia ed è la meraviglia ovviamente del rinascimento italiano. Ed ora parliamo delle proloquo, siamo sempre in tema di turismo ma parliamo del proloquo perché al posto di Damiano Bartocetti che è stata una figura iconografica del proloquo del turismo provinciale in questi ultimi anni è seguito Matteo Martinelli come nuovo presidente. Unione provinciale del proloquo, Matteo Martinelli è presidente. Siamo già al lavoro per l'estate e anche per dar seguito alle iniziative natalizie. il Natale che non ti aspetti è una delle iniziative più importanti organizzate dalla Unione del proloquo. Operiamo con trasparenza l'Unione nazionale del proloquo che si basa soprattutto sul volontariato. Io mi meraviglio sempre tutte le volte che parlava, per quanto parlava Bartocetti, che la prima cosa che diceva, diceva sempre io ringrazio i volontari, io ringrazio i volontari perché senza di loro mille cose non si sarebbero organizzate nel nostro territorio e credo che faccia così anche Matteo Martinelli. Giriamo ancora la pagina e vediamo la pagina pesarese. Riguarda il caso della Trevalli e con un colpo di scena si è dimesso il presidente Gianluigi Draghi. Le decisioni dell'azienda di Colli al Metauro dopo l'inchiesta scandalo. Ebbene, l'azienda ha scelto la strada della cautela in modo da poter dare ampia libertà, ampio spazio alla inchiesta per verificare veramente quello che è accaduto in azienda. Contemporaneamente è stata stabilita anche la sospensione dell'attività dello stabilimento di Colli al Metauro per consentire tutta la verifica, soprattutto la bonifica della produzione e anche per non ne mischiare quello che si produce negli altri stabilimenti della Trevalli che sono in altre località della regione Marche, che sono completamente estrani alla inchiesta. Giriamo ancora la pagina e parliamo di campagna elettorale pesarese e vediamo che c'è un nuovo candidato sindaco, si tratta di Fabrizio Oliva, quarto candidato sindaco della campagna elettorale pesarese. Stop alla movida caos in zona mare, lui è un operatore turistico e quindi è molto interessato a quanto accade nella zona mare. L'albergatore rompe gli indugi e lancia la lista spazi liberi. Vediamo un attimo una delle sue dichiarazioni. Voglio evitare, ha detto, il divertimento dei giovani, ma non lo permetterò, scusate, non voglio evitare il divertimento dei giovani, ma non lo voglio nel posto sbagliato. Quindi destinerò all'intrattenimento dei giovani aree a Fosso Signore, in via dell'Aquidotto, a Baia Flaminia o alla Vela, tra i due moli. Ed inverno anche a Villa Fastigi. La movida va localizzata nei luoghi giusti, ha dichiarato. Ed ora passiamo invece al Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano, apre con un dibattito elettorale che vede un argomento, credo che sia di interesse della cittadinanza di Fano. La futura destinazione della Corte Malatestiana. Questo bellissimo luogo monumentale, che rimane un pochino discosto dalla piazza 20 Settembre. Un luogo che deve trovare ancora una sua immagine, una sua funzione esatta, anche se sono in corso dei progetti interessanti. Ma quello che ha dato inizio ad un dibattito è una dichiarazione che ha fatto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Serfilippi, mentre sabato scorso ha presentato il suo programma al Politeama di Fano. E ha detto che ripristinerà la funzione teatrale della Corte Malatestiana. Come si faceva una volta, quando d'estate alla Corte Malatestiana si rappresentavano concerti, commedie, opere liriche. Insomma, era una cornice teatrale di grande suggestione e di grande attrazione. Ebbene, Luca Serfilippi ha detto che è nostro obiettivo ristrutturare l'antico scenario teatrale che in passato ha fatto della Corte uno dei più suggestivi luoghi di rappresentazione delle Marche. Rifaremo il palcoscenico, l'impianto tecnico, la cabina di regia e la platea, pur cercando di provocare il minore impatto possibile. Se Filippi comunque esclude che si possa riposizionare una struttura simile alla vecchia pedana in legno, che era impattante e molto pesante, comunque non omette di precisare che si studieranno le migliori soluzioni tecniche. Insomma, la Corte Malatestiana è stata così rimmaginata come un luogo teatrale. Non sono d'accordo invece gli altri candidati sindaco, non è d'accordo Cristian Fanesi che dice che utilizzare la Corte Malatestiana come in passato è un errore perché nel frattempo si sono aggiunti altri luoghi teatrali come quello della Rocca Malatestiana che ha 700-800 posti, come il bastione Sangallo. Insomma, ora non si sente più l'esigenza della Corte che operava quando ancora il Teatro della Fortuna non era agibile. E quindi la Corte potrebbe essere valorizzata nel suo aspetto monumentale, soprattutto in funzione del Museo Civico e del Palazzo Malatestiano. È una differenza se non sostanziale ma comunque c'è la evidenzia anche Stefano Marchigiani, il quale aveva già intrapreso un progetto di riqualificazione della Corte pensando ad un giardino all'italiana. Era stato preso anche un contatto con un grande architetto Guido Canali per fare appunto un'immagine diversa. Comunque la cosa è tutta in itinere e vedremo chi vincerà le elezioni e qual è il progetto poi che verrà attuato per questo bene culturale di grande importanza. Innovazione e inclusione. Mascarin guida in comune. Presentata alla prima lista del centro-sinistra, Luzzi dopo dieci anni fa un passo di lato. Questo è il titolo che appare per quanto riguarda la presentazione della lista di in comune di cui abbiamo già parlato. Invece destra ancora polemiche la attività che deve ancora iniziare del nuovo centro per le famiglie 6 plurale che è stato realizzato a Santoso nei pressi del centro commerciale. Preoccupa Fratelli d'Italia il recente bando riguardante appunto questo centro che scadrà venerdì prossimo. Qual è il problema che viene enunciato questa mattina sui giornali da Davide Del Vecchio che è un candidato al prossimo Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia dice che è mancata la condivisione. Non sono state interpellate le componenti del terzo settore, le associazioni e l'amministrazione comunale ha fatto tutto per conto suo e questo non è un bene, non è un modo giusto di procedere. A Fossombrone è iniziata la settimana del rinascimento. Partecipano anche 30 sindaci al via agli eventi del trionfo del carnevale che è una delle manifestazioni più importanti della città metaurense. Per il progetto di Peser Capitale Italiana della Cultura avrà una valenza ancora maggiore. Oltre 30 sindaci della nostra provincia hanno partecipato a Fossombrone, insieme poi c'era anche il prefetto Emanuela Saveria Greco, al taglio del nastro inaugurale della settimana dedicata al rinascimento come Fossombrone che poi è associata a Peser Capitale della Cultura. Ebbene, un suggestivo scorcio in corso Garibaldi nei pressi della chiesa barocca di San Filippo, che poi uno dei tesori del nostro territorio, con i figuranti e gli standardi della 22esima edizione. Insomma, uno spettacolo di tipo di rievocazione storico, medievale, molto molto bello e molto suggestivo. A San Lorenzo in campo abbiamo il terzo mandato a cui aspira il sindaco Dell'Onti. La rinascita ora prosegue, ha detto il candidato. E Dell'Onti ha presentato la sua squadra. Il sindaco Laurentino in corsa per il terzo mandato. Il comune è trasformato e il giornale elenca tutte le opere che Dell'Onti ha realizzato. Sono diverse, devo dire, nel corso del suo mandato amministrativo. Pagina di Senigallia. Pagina di Senigallia. Abbiamo le dichiarazioni delle associazioni di categoria in merito alle verifiche che la Guardia di Finanza sta facendo nelle aziende per quanto riguarda la regolarità delle assunzioni per quanto riguarda il personale. Ebbene, si è scoperto che molte cose non vanno. Paghe da fame? Vabbè, non generalizziamo. Ci sono operatori che si comportano non in modo regolare, ma ci sono tanti altri invece che rispettano le regole. Il problema comunque rimane è la carenza di personale. Difficilmente i giovani si assoggettano ad un lavoro faticoso che non ha praticamente giornate di riposo. La domenica si lavora, il sabato si lavora ed è duro e poi è un lavoro solo stagionale, non garantisce un futuro sicuro. Comunque le associazioni di categoria applaudono ai controlli che sono stati effettuati, tutelano anche chi si comporta regolarmente, però bisogna anche cercare di dare il giusto valore a chi si impegna in modo in sintonia con la giustizia. Vediamo ora l'ultima notizia riguarda la pagina di Pesaro. Parcheggi a pagamento non solo in Viale Trieste, ma anche nelle traverse. Questa è una delle novità che si profila per la prossima estate. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.